L'Aereo Te buttano fuori dell'aereo, lo sai? Si si, non ti fanno volare Ma parliamo che ci sono anche spinti E' sereno E' sereno Grazie E' così passato per controllare Ieri l'altro giorno stavamo vestiti e mi generavano due a sé, ma poi facendo così particolare qui, non sai qual è, ce ne ho un po', vogliamo, e tra qual è la Roma in Piero Marea, e se mi viene di vela che guarda che c'è il portatore che ha fatto benedicolare, non so, non so, non so, non so, non so, non so. Non so, non so, non so. Non so, non so, non so, non so, non so, non so. Non so, non so, non so, non so, non so. Non so, non so, non so, non so, non so. Non so, non so, non so, non so. Non so, non so, non so. Non so, 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 non Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info Grazie a tutti 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 e a tutti Grazie 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 a tutti